Una partita a tratti stregata, difficile anche da commentare a caldo per tutte le occasioni che ha avuto l'Udinese a fronte dei tre tiri in porta fatti dal Parma. Sì, è così. Il calcio a volte è strano. Io ho visto la statistica, hanno avuto tre tiri in porta, noi abbiamo dodici, da quali tantissime occasioni nette di fare gol. E' andata così. Comunque prendiamo questa sconfitta per migliorare, perché c'è ancora, perché c'è un incomodo. Poi, come ha detto lei, a volte abbiamo fatto anche bene, poi al nostro momento migliore abbiamo perso una palla alla 40 metri a porta. C'è stato Gervinio che ha messo a turbo e ha vinto la partita praticamente lui da solo. Dispiace, però è così, il calcio è così. A volte, secondo me, oggi non ci sta a perdere, però a volte può capitare. Magari a loro oggi, a noi prossima volta. Conoscendo la sua voglia di lavorare magari anche su queste situazioni puntuali, su questi errori, la sosta arriva in un momento in cui chiaramente non sarà facile andare a correggere subito queste situazioni, considerando che partirà forse più di mezza squadra. Sì, ma c'è anche Inter che magari avrà più giocatori di noi. Io guardo in futuro con ottimismo, come ho detto anche prima, c'è giocatori importanti, forti, che vogliono lavorare, vogliono migliorare. Oggi ci hanno messa a tutta, poi come ho detto prima non siamo sfruttati queste occasioni davanti e alla fine questo ti penalizza. Perché se vai e vieni là e fai gol e te no, alla fine perdi.